Si è messo a registrare davvero? Aspetta, vai di più il panorama Facciamo una cosa, io vado, poi si vede tutte le camere che gira, vedi una cosa e poi la gira avvicinama I vendi il sole, vendi il sole Che siamo combinato? Più veloce! Che siamo combinato! Che abbiamo combinato!